Ragazzi, sono le 14 e 14, andiamo alla grande, siamo arrivati da Vigo all'aeroporto, siamo arrivati a Sarria grazie all'Ovacar e qua ha inizio il nostro cammino, gli ultimi 100 chilometri, sono al 126, cominciamo già subito in una bella scalinata e che dire, buon cammino ragazzi! Dopo la salita, sulla destra, dopo quasi 6 chilometri, si incontra a Casa Barbadelo, un ostello veramente bello ragazzi, prenotate perché si rischia di non trovare posto, ma un ostello che merita, con piscina, camere da 6, da 4 persone, anche camere da 2 o singole, in base a quello che volete, noi in una camera da 6, perché non c'erano più posti, abbiamo speso 12 euro a notte, in una camera da 8 sarebbe costato 10, per la cena 9 euro, il menu del pellegrino, il menu del Dios, che sarebbe il menu del dia come dir si voglia, vale veramente la pena, ottimo il mangiare, ottima la pulizia e ragazzi giudicate voi! Grazie a tutti! Dopo la cena, in compagnia di amici che abbiamo conosciuto, che incontreremo lungo tutto il viaggio e mangeremo ancora con loro, ci incontreremo anche alla fine, l'ultimo giorno a Santiago, decidiamo di andare a dormire e la nostra tappa si conclude qua e domani ci aspetta una tappa già importante di 28 chilometri, arriveremo a Gonzar, ciao ragazzi!